Antonella Ruggero e Emanuele Morgese saranno protagonisti di una affascinante serata all'insegna della cultura e della musica, portando in scena il Principe di Niccolò Machiavelli. L'evento, in programma per mercoledì 17 luglio alle 21, alla scalinata di San Bernardino all'Aquila, è inserito all'interno della rassegna I Cantieri dell'Immaginario. È una riflessione sul potere molto molto importante, visti i tempi che corrono, è anche molto moderna. Lo spettacolo è previsto in due tempi. Il primo tempo c'è appunto questo esperimento che ho fatto con Antonella Ruggero. Nella seconda parte dello spettacolo Antonella Ruggero canterà poi i successi che meno si incastravano in questo mondo più classico. Il Principe, trattato di filosofia politica scritto da Niccolò Machiavelli nel 1513, è un'opera complessa, è un'opera controversa, che continua ad affascinare e interrogare i lettori di tutto il mondo. In quest'opera Machiavelli descrive la qualità che un principe dovrebbe possedere per conquistare e mantenere il potere. Lo spettacolo di Antonella Ruggero e Emanuele Morgese propone una lettura originale e suggestiva del principe. La Ruggero, con la sua voce straordinaria, interpreterà alcuni dei passi più significativi dell'opera, mentre Morgese, con la sua intensa recitazione, darà vita a personaggi e alle vicende narrate da Machiavelli. Lo spettacolo sarà accompagnato dalle musiche di Renzo Ruggeri alla Fisarmonica e di Paolo Di Sabatino al pianoforte. La regia è di Livio Galassi, che curerà l'allestimento scenico e la direzione musicale. Al termine dello spettacolo Antonella Ruggero offrirà al pubblico un omaggio all'Aquila, interpretando alcuni dei suoi più grandi successi. Lo spettacolo è un'occasione da non perdere, per approfondire la conoscenza di un'opera fondamentale della letteratura politica e per godere di una serata di musica e cultura di alto livello.